Ciao a tutti ragazzi, io sono Maki ed eccoci qui con un nuovo episodio della nostra Fox Legacy. Allora, dopo l'addio al celibato del nostro Archie che adesso è qui, che ancora sta dormendo, oggi invece ci sarà quello di Nikki e penso che lo faremo di pomeriggio. Per il momento, vabbè, è mattino, quindi occupiamoci un attimo di loro. Vedo che lei comunque sta benissimo. Ha ancora sonno, ma mi sa che si è svegliata per la piccola, quindi la faccio tornare a dormire. Però prima occupiamoci un attimo di lei, magari la calmiamo, facciamo anche coccola. Allora, sapete cosa? Quasi quasi... no, non posso calmarla perché non sta più piangendo. Quasi quasi lo organizzerei adesso, prima che me ne dimentico. Come vi avevo detto, per lei avevo pensato di qualcosa di più tranquillo. Quindi invece di fare proprio una festa scatenata, eccetera, stavo pensando di andare a bere il tè con le sue amiche. Ho aggiunto alcune amiche qui nello scenario e le ho anche fatto conoscere le sorelle di Archie, perché mi sembrava sensato che comunque le conoscesse, dato che sono pure venute a casa, però ok. Quindi facciamo di nuovo ultima notte da single e invitiamo. Allora, intanto Lavender, Melrose e... ecco qua Luna. E anche Alexandria, che sarebbe praticamente... non è la fidanzata di Lavender, ma è proprio la moglie di Lavender. Io non ricordavo che fossero sposate, però ok. Quindi la moglie di Lavender, che peraltro l'ho fatta conoscere anche ad Archie, adesso verrà al matrimonio, quindi adoro. Dopo di ciò, come amiche, abbiamo Zara Walter, che praticamente è la sim che ho creato per l'appuntamento al buio con una sim di Grace, quindi adoro. Poi voglio invitare anche Zara, che come avevo detto era sua amica. E poi voglio invitare Sana, Kageyama. E credo che non posso invitare più nessuno, esatto, perché in realtà volevo invitare anche Josie e Nala, però non posso invitarle purtroppo. Quindi vabbè, facciamo soltanto con loro. E benissimo. Per sicurezza... no, credo che non ci serva il mixologo. E anche l'intrattenitore... vabbè, l'intrattenitore lo prendo, però onestamente non credo che ci serva. Come attività, semplicemente io farei qui dessert. E poi si dia inizio al brindisi. Queste qui non le metto perché non mi interessano. Io speravo che ci fosse anche quella del tè, ma a quanto pare con questa ultima notte da single non me la dà. Ma comunque nel posto dove andremo ci sono le teiere, quindi non c'è problema. Quindi andiamo qui e come posto che ho scelto, vediamo se lo trovo... Credo sia questo o no, non è questo. Ecco qua, French Tea House. Questo qui mi piace un sacco. Come orario, magari potremmo fare verso le 15. Secondo me è un orario adatto. Quindi facciamo in questo modo. Adoro! Finalmente anche lei avrà la sua, tra virgolette, notte da single, ma in realtà è un pomeriggio con le amiche. Andiamo un po' qui che mi dice... Videogioca ed esplora simperia. Stavo pensando anche un'altra cosa, quindi torniamo un attimo nel calendario, perché abbiamo visto che appunto la piccola Daisy fa il compleanno domani. Ma in realtà io sarei tentata di farla passare d'età oggi. Così possiamo sistemarla un attimo e domani saremo tranquilli, non abbiamo neanche questa fretta di dover sistemarla per il matrimonio. Quindi mi sa che la farò passare d'età oggi, sostanzialmente. Però adesso tu puoi anche andare a dormire. Vediamo, lui sta benissimo e mi sa che oggi deve andare a scuola. In realtà è in vacanza, ma non so perché sia in vacanza. Io lo manderò lo stesso a scuola. E lui... No, io ho dato incarichi, però fino al matrimonio non gliene do, perché ho paura che succeda qualche cosa. Quindi preferisco di no. Chi chiama Arci? Oddio, ho paura, no. No, Winston! Ragazzi, è morto anche Winston! Ebbene, ragazzi, tutti i vecchietti sono morti. Tutti quanti. Tutti quanti! No! Quindi Winston, poi Shoto, Drew, poi Armi. Abbiamo Julie, Javier, Blair, Agatha. Ragazzi! Che tristezza, no! Mi dispiace un sacco, pure Winston! Oddio, eh vabbè, purtroppo sapevamo che sarebbe accaduto. Io spero che lui non sia troppo triste, ma in realtà ovviamente è il lutto. Cercherò di togliere questo mood prima del matrimonio. Speriamo di farcela, però vediamo. Tu puoi andare a scuola. Perfetto, buon lavoro. Divertiti. Lo vedo in realtà un po' agitato perché sta un po' rimuginando su qualcosa. Secondo me da quando è nata Daisy, ragazzi, il povero Allen è un po' insicuro. Forse ha paura di ricevere meno attenzioni, quindi è per questo che è un po' a disagio. Ma in realtà sappiamo che comunque Arce e Nicky gli vogliono tantissimo bene. Nonostante adesso ci sia anche Daisy, quindi non deve preoccuparsi. Magari dopo il matrimonio cerchiamo di fare qualcosa con lui. Vediamo, qui non c'è nient'altro. No, per ora mangio semplicemente e poi magari vai a parlare. Pensa al membro della famiglia. Poi vai a parlare con Daisy. Magari la facciamo proprio passare d'età. Però intanto, ripeto, lo faccio mangiare. Tu ti lascio dormire, così poi sei carica per il tuo pomeriggio con le amiche. Ok. Magari ripulisci qui, bravissimo. Poi vai in bagno e ti lavi anche i denti, per favore. E poi parliamo un po' con la piccola. Allora, vediamo un po'. Parla, ecco qui. Ciao, amore di papà. Ecco qua, manca poco al compleanno di Daisy. E allora ne approfitto, dato che mi è spuntata questa interazione. Guardate che carina, peraltro. Ne approfitto per farla passare d'età. Quindi facciamo. Sono curiosa, ragazzi, chissà che colore di capelli avrà. E a chi somiglierà. Adoro! Uh, mi sa che ha i capelli varroni come arci. Vediamo un po' che tratto le spunta. Uh, curiosa. Veri e propri esploratori. Questi bebè sviluppano l'abilità di pensiero un po' più velocemente. Non sono mai felici, come quando imparano qualcosa e si rattristano se non hanno imparato nulla di recente. Adoro! Vediamo un po'. Aspetta. Ma che carina! Sì, mi sa che ha... Oddio, lo sta fulminando con lo sguardo. Ma mi sa che ha il colore degli occhi di lei. Oddio, ma no Jordan. Il fantasma di Jordan che le fa un regalo. E anche il nonno. Ok, perfetto. Facciamola camminare e poi magari le do un makeover. In realtà non ho dove farla dormire adesso che ci penso. Però adesso vediamo. Troveremo una soluzione. Guardatela! Aspettate che la cambio subito nel creo un sim. Ed eccola qui, amici. La nostra piccola... Se me lo fa... Ecco. La nostra piccola Daisy è adorabile, ragazzi. Troppo troppo carina. Oh mio Dio. Ah, sì. Ha gli occhi praticamente di Nikki e i capelli di Archie. Anche se in realtà io sarei tentata, magari quando è più grande, di farglieli diventare biondi. Un po' come li aveva Bailey. Guardate quanto è carina! No, la adoro. Io già sono innamorata di questa piccolina. Vediamo che stai facendo. Prendi in braccio. Fammi vedere come sta. Ecco, lei avrebbe fame. Quindi facciamo una cosa. Mettiamola qui sul seggiolone. Ecco qui. E le diamo da mangiare. Ok, sono le nove. Perfetto. Abbiamo un sacco di tempo in realtà prima del... Come si chiama? La festa al nubilato. Cavolo, non mi veniva il nome. Quindi per il momento occupiamoci della piccola. Vediamo se riusciamo a darle da mangiare senza che lei ci chiami. Diamo le cereali. Andiamo un po'. No, eccola qua. Lo sapevo io. Vabbè, dalle i cereali e poi rimettila lì. Ok. E poi lo faccio andare in bagno. E magari poi farò svegliare anche... Dove vai tu? Che stai facendo? Ondeggia il ritmo della musica. Che carino. No, però aspetta. Mi sa che c'è ancora... Ecco. Questa mi ero dimenticata di disattivarla. Quindi lo disattivo. Così lei può mangiare tranquilla. Ed io posso andare qui in bagno. Perfetto. Ok, vai. E tu mangia. Ce la fai? Sì, perfetto. Eh, no. Mamma mia, ragazzi. Questa mia... E guardate poi lo sguardo innocente che fa tipo... Oh mio Dio, è caduto. Chi sarà mai stato? Ma forse tu? Così. La butto lì, eh. Cioè, io sono senza parole. Ma tu non puoi dirle qualcosa? Ecco qua. Fai un discorsetto. Non si butta il cibo per terra. Non si fa. Mi sa che lei, altro che Allen, che praticamente un bambino buonissimo è stato, lei, secondo me, ci farà un po' penare. Però adoro. Peraltro già sta parlando. Di che sta parlando? Balbettio. Ok. Ha fame. Eh sì, ma io ti avevo dato il cibo, amore mio. Però tu lo hai fatto cadere tutto. Aspetta, dalle da mangiare. Vediamo se questa volta non lo butto a terra. Te chi ti chiama? Cos'è l'amore? Oggi nel banco di Allen abbiamo trovato una lettera d'amore mai spedita. È diretta a uno dei suoi insegnanti, no? Niente di scandaloso, ma abbiamo pensato di fartelo sapere. È in grossi guai, te ne ero mai inappropriato, ne riparleremo. No, ovviamente diciamo questo, perché dico è un bambino. Controllo emotivo aumenta e l'empatia diminuisce, va benissimo. Ok. Lei si sta addormentando. Ragazzi, è già adorabile. Secondo me lei sarà un po' una piccola Jordan. Non so perché, ma ho l'impressione che lei ci porterà tanto drama. Ho proprio quest'impressione. Ok, lui si sta un attimino divertendo. Magari potresti anche giocare una partita mentre ti guardi la tv. Ok, tu finisci qui di ripulire, poi ti farei fare una bella doccia. Ok, così ne approfittiamo del fatto che lei stia dormendo per sistemarci un po' tutti noi. Che succede? Ma chi è questo? Ma, ehm, che... Non so chi sia. E non so cosa voglia. Chi è? Vabbè, io lo ignoro. Uh, Jocelyn. Cosa? Ragazzi, ma... First reaction shock. Scusami, ma... Allora, ultimamente stavo pensando di avere un figlio. Pensi che sia una buona idea? Lo vogliamo, ma abbiamo qualche dubbio. È un'enorme irresponsabilità. Che ne pensi? Ma, guarda... Scusami, non so. Secondo me lui dice dovresti decidere per conto tuo. Perché poi, perché l'ha chiesto a Darci e non a Nicky? Cioè, questa cosa mi sembra molto strana. Non penso che, cioè, forse a Nicky non farebbe piacere avere un altro fratellino o sorellina. Ma, dico, non credo sia... Non lo so. Secondo me lui dice si trova un po' in difficoltà. Perché, cioè, che cosa deve dirle? Gli dice semplicemente dovresti decidere per conto tuo. Dio un po' che dice? Decidere per conto mio? È troppo difficile. Ma scusami. Ma che c'entra Arci? Io non capisco. Vabbè, comunque. Lasciamo perdere queste piccolette. Fai una cosa. Tu asciugami qui. E vediamo se riusciamo anche... No, non fai uscire. Volevo pulirlo. Ma forse devo farla uscire per pulire qui. Ed eccoci arrivati. Questa è la tea house. Anzi, la French tea house. Che ho scaricato dalla galleria. Si chiama proprio French tea house. Se la voleste, insomma, scaricare anche voi. E praticamente dentro è fatta così. È proprio... Cioè, ci sono le teiere. Insomma, c'è tutto. E mi piace veramente un sacco. Come attività abbiamo messo quindi... Si tiene inizia il brindisi e prendi un dessert. Ah, ecco. Mi sono dimenticata la cosa del brindisi. Quindi dobbiamo metterla qui da qualche parte. Io non voglio togliere la fontana però. Cioccolata, succo di frutta. Anzi, sapete cosa? Sì, tolgo la fontana. Perché comunque abbiamo il tè. Quindi anche se non ci beviamo qua il succo di frutta o ci prendiamo la cioccolata non fa nulla. Però dobbiamo fare il brindisi. Quindi quello ci serve. Allora. No, non volevo andare in articolo di Abbar ma mostra tutto. Dunque, 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 dunque. Dove si trova? Oddio, non lo trovo più. È sparita. Ecco qua. Ok, perfetto. L'abbiamo trovata. Bene. Ok, possiamo venire qui tutte insieme. Ma posso fare un gruppo? Che forse mi viene meglio. Allora. Azioni. Forma un gruppo. E prendiamo tutte loro. Ah, c'è anche Eva. Non pensavo di averla invitata. No, infatti non l'ho invitata. Vabbè. Veniamo qui insieme. Perfetto. Peraltro sta anche piovendo ma tanto noi adesso entriamo. Benissimo. Hanno tutti gli abiti da festa. Certo, però quello di Luna mi sembra un po' troppo appariscente per una tea house. Però va bene lo stesso. Insomma, se hai voluto vestirsi così a me non cambia nulla. Benissimo. E direi di servire già il tea. Che dite? Ecco qua. Metti il tea in infusione. Vediamo un po' quali opzioni abbiamo. Camomilla calmante. Earl Grey. Tea ai fiori d'arancio. Interessante. Tea del drago nero. Tea nero intenso. Tea oolong. Forse corretto. Tea verde salutare. Prepara del confortevole succo di mela. No, io proverei questo qui ai fiori d'arancio. Ma sì. Dai, proviamo questo. E qui invece servirei magari del cibo, dei dolci. Perché abbiamo i dessert. Vediamo, aspetta. Ci sono le focaccine dolci. Focaccine dolci. Amaretti. Questo non so cosa sia onestamente. Crostatine alla frutta tartosiana. Facciamo queste. Vediamo un po' che cosa sono. Quanto ci vuole per preparare il tè? Ah ok, versa tè. Potremmo già farlo. Va bene, però intanto mettiamo anche i dolcetti. Bene. Uh che belle. Prendiamo anche magari qualcos'altro. Ci sarebbero le focaccine dolci, altrimenti... Sì no, servirei le focaccine dolci. Giusto per non sbagliarci. Ok. Vediamo un po'. Eccole qua. Guardate com'è contenta lei. Adoro. Benissimo. Dai, possiamo versare il tè. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Sono proprio curiosa di vedere questa cosa qui. Eccola. No, devo fare assolutamente una foto di lei con la teiera. Certo, questa qui mi sta rovinando la foto e anche lui. Però non importa. È comunque super carina. E poi veramente adoro come le stanno questi capelli. Proprio, proprio carina. Ok. Bene. Eccoci qua. Abbiamo il nostro tè. Posso fare bevi insieme? Servi il tè a... Ah. Posso farla a tutte? No. Vabbè, gliene diamo uno a lei. Giusto. Ah, ok. Glielo va proprio a dare. Ma davvero? No, bellissimo ragazzi. Dio, grazie. No, ma bellissimo davvero questa cosa. Le dai il tè. Aspetta, voglio fare una foto anche qui. No, troppo bello. Mi piace, mi piace un sacco questa cosa. Grazie. Diamolo a tutti allora, dai. No, ho sbagliato persona. Vieni qui. Facciamo. Servi il tè a... Lo diamo anche ad Alexandria. Poi serviamo il tè a Zara. Serviamo il tè a Sana. Serviamo il tè a Luna. Poi a Merrose. E poi a Zahara. Ecco qui. E poi credo di averlo servito a tutte. Forse Alexandria. No, Alexandria qua. Perfetto. Quindi poi se lo prende anche lei. Perché è l'unica che poveretta non ha il suo tè. Lei la vedo molto preoccupata. Non so da cosa. Forse non le piace il sapore del tè. No, non riusciamo. Ah, ok. Se lo prendono loro in automatico. No, allora va bene. Dai, ognuna si prende il tè. E poi parliamo un po' con tutte. Facciamo magari... Vediamo un po'. Amichevole. Entusiasmati per il matrimonio. Magari parliamo anche... Facciamo qualcosa di buffo. Tipo una storia buffa. Dai, cerchiamo di interagire un po' con tutte qua. No. I dubbi direi di no. Facciamo magari una battuta sul matrimonio. Dai, che carina questa cosa. Mi piace che almeno è una festa un po' diversa da quella che abbiamo fatto finora. Perché comunque anche la festa di fidanzamento non è che era tanto diversa dall'addio al celibato di Archie. Quindi, vabbè che non si ballava, eh. Però, insomma, almeno facciamo qualcosa di più tranquillo questa volta. Lei si è messa qui isolata. Non so perché. Proviamo a parlarle. Entusiasmati per il matrimonio. Ok. Però le vedo molto... Non lo so. Forse a disagio. Forse perché a lei non la conoscono tanto. Quindi magari parliamo anche un po' con lei, dai. Oh, ma che co... Ma scusami. Ma perché? Cioè, Merrose, perché? Dimmi solo perché. Che peraltro, ragazzi, se vi ricordate una volta, Archie era andato a fare la ristrutturazione a casa sua e lei ha fatto la stessa identica cosa. Ma scusami, Merrose. Ma non è quel tipo di addio al nupilato? Così. Così. Giusto per dire. Io sono sconvolta. Ma vestiti. No, no, no. Aspetta. L'ha resetto perché... Eh... No. Ok. Io sono sconvolta. Aspetta, però mettiti i vestiti da festa. Cioè, ragazzi, Merrose è impazzita. Va bene. Tutto nella norma. Va bene, va benissimo. Magari parliamole così e evitiamo di farla... Eh, vabbè. Niente, ragazzi. Merrose è andata. Oddio. Io sono senza parole. Vabbè. Eh, va così, ragazzi. Che cosa vi devo dire? Dai, magari prendiamoci un bel dessert tutte insieme. Facciamo. Chiama. Mangiamo cibo. Ok, vediamo se funziona. Lei continua con i peti. E niente, ragazzi. Purtroppo va così. Che cosa vi devo dire? Io ormai lascio che i sim si esprimano come meglio credono. Se vogliono esprimersi a peti, facciamo anche i peti. Che vi devo dire? Che disagio, ragazzi. Che disagio. Ok. Oh, questa tizia sta bevendo il tè. Non era invitata, però ha rubato il mio tè. Ma va bene, è lo stesso. Magari potremmo servire qualcos'altro. Pulisci il servizio del tè? No, vorrei servire qualcos'altro. Magari qui? Ecco qua, mettiamo in infusione magari questo tè del drago nero. Ma sì. Ok. Ma vengono qui a mangiare? Riproviamo. Ecco, facciamo. Mangiamo cibo. Vediamo se vengono a mangiare. Sì, ok, arrivano. Benissimo. E allora, prenditi anche tu una porzione. Benissimo. Dai! Ma lei la vedo pure un po' titubante. Quindi magari parliamo anche con lei. Facciamo annuncio al fidanzamento, anche se ormai è ovvio. E facciamo anche qualche battuta, dai. Dai, però comunque anche se questa è tranquilla, mi sta piacendo come festa. Vorrei cercare di interagire con tutte, però forse non riesco. Facciamo una barzelletta sui politici, ok? Qui questo tizio ha acceso il camino, quindi perfetto. Anche se in realtà c'è caldo, quindi non so. Non so se sia stata la mossa più intelligente, però ok. Benissimo, dai. Però si stanno divertendo. Lui non so chi sia. Ah, lui è l'intrattenitore. Perché mi sa che non c'è un pianoforte, quindi poveretto è rimasto qui. Vabbè, dai. Almeno si diverte un po' con noi ragazze. Oddio, questo invece chi è? Così, un tizio a caso, va bene. Dai, però devo dire che sono contenta. Vorrei fare anche qualche foto, magari. C'è un'annettota? No, anzi, non fare più cose divertenti, per favore, perché ti vedo un po' troppo giocosa. Quindi meglio evitare. Vediamo se qui le spunta qualcosa con una di loro. Discuti degli autori preferiti? Ma sì, dai, facciamo questo. Magari facciamolo con Zara, così la includiamo un po' di più. Eccola qua. Zara facciamo amichevole, discuti, discuti, dell'ultimo libro degli autori preferiti. Bene. Benissimo, lei sta anche mangiando, perfetto. Dai, devo dire che sta andando bene. Io quasi quasi, smetti di mangiare, riunirei tutti anche per il brindisi. Dai, vai a parlare con lei e poi facciamo il brindisi. Perché non so che ora finirà la festa, quindi vorrei cercare di farlo, se me lo fa fare, ovviamente. Perché questa cosa del brindisi non l'ho proprio capita, onestamente. Però ok. Posso fare anche una foto, aspetta. Proviamo a fare una foto con lei. Eccola qua. Ok, le stiamo annunciando, mi sa, il fidanzamento, ma ripeto, lei già ovviamente lo sapeva. Nicky non vede l'ora... Ah ok, questo già l'avevamo detto. Facciamo, brindiamo. Vediamo se arrivano. Ok, arrivate ragazze. È ora di fare il brindisi. No, non arriva nessuno, anche lei la vedo un po' titubante. Facciamo così. Proviamo a richiedere un brindisi da... Da chi? No, lo faccio io perché onestamente non mi fido molto di questa interazione. Quindi vai, fai il brindisi. Speriamo che arrivino tutte. Però, ripeto, qualche dubbio. Sono tutte per i fatti loro. Però mi piace comunque perché questo posto non è molto grande. Quindi sembra ancora più accogliente. Eccola ragazze, tra poco mi sposo. Anzi, domani praticamente. Domani mi sposo, sì. Ok, vediamo se loro prendono i loro bicchieri. Anche se da quanto ho capito li prendono dopo un bel po'. Ecco, infatti mi sa che adesso li stanno andando a prendere. Eccole qua. Tanti auguri, congratulazioni tesoro. Anche lui. Ma scusa, io mi farei qua una presentazione perché mi sta simpatico, devo dire. Dai, magari potrebbe diventare nostro amico. Poverino è rimasto qui, ma va benissimo. Matteo Markovic. Credo sia uno dei nuovi sim usciti con questo game pack. Adoro. Benissimo. Mi piace questa cosa. Però voglio fare appunto... Anzi, non una presentazione. Facciamola amichevole. Ecco qua. Presentazione amichevole. E poi farei una foto con Zara. Se... Eccola qua, lei è lì. Però prima presentiamoci. Ma l'abbiamo bevuto qui l'altro tè? Versa tè. Versiamolo. Dai, mi sta piacendo un sacco anche questa festa. Ok. Mi sa che poi prenderemo l'ultimo tè e poi... Non... È strano diciamo questa cosa con questi eventi. Perché non si capisce quando finiscano. Ma che carine! Adoro, ragazzi! Mi piace un sacco questa foto. Ok. Facciamo così. Benissimo. Stavo dicendo, prima di fare appunto queste foto, che è difficile capire quanto durino questi eventi. Quindi, se io non faccio le cose in tempo, io non so quanto tempo ho per farle. Quindi potrei anche prendermela con calma e poi non riuscire a fare nulla. Quindi, non so. Secondo me avrebbero dovuto mettere il tempo come fanno di solito con tutto il resto degli eventi. Vabbè, continuiamo a prendere qui il tè comunque. Prendiamo anche questo, giusto per assaggiarlo. A proposito, vorrei vedere se mi era spuntato qualche cosa del tè di prima. Fioritura di agrumi. Quel tè di agrumi era un po' aspro, ma ora Nicky si sente decisamente intelligente. Ah, quindi danno dei mood. Ok, buono a sapersi. Benissimo. Ok, lei ha bevuto, ma forse non le è piaciuto perché lo ha posato. E adesso sta andando a checcherare con me Rose. Ok, la festa è finita. Voglio vedere se mi dice qui qualche cosa di come è andata. Però mi sa di no. No, mi sa che non mi dice assolutamente nulla. O forse questo. No, niente, non mi dice nulla. Ovviamente se ne stanno andando tutti, ma devo dire che comunque anche questa è stata un successo. Eccola qui, guardatela. Com'è felice di questa festa. Adesso però torniamo a casa. Ok, io finirei qui con questo episodio perché comunque abbiamo fatto tanto. Abbiamo fatto passare d'età alla piccola, abbiamo fatto anche questa festa. Ragazzi, nel prossimo episodio finalmente Arci e Nicky si sposeranno. Non vedo l'ora. Ho scelto finalmente anche il... come si chiama? Il posto dove si sposeranno. E non vedo l'ora di mostrarvelo. Ovviamente sarà tartosa. Questo ve lo dico perché comunque ci sta andare nel nuovo scenario. Ancora non ho deciso se farli vivere lì oppure no. Quindi fatemelo sapere nei commenti, secondo voi, se è meglio andare a Brindenthal Bay, come avevo pensato all'inizio, oppure se andare a tartosa. E niente, quindi io vi mando un bacio enorme. Vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!